Wilders, primo vlog del canale, primo vlog anche della mia vita, chiudo il finestrino perché sono bloccata in autostrada, sono andando alla fiera di Rimini, al TTG e ovviamente Milano, è sempre Milano Ciao Ciao Wilders Ciao tutti Prima giornata di TTG terminata, salutiamo Ciao Di il tuo nome Ciao, io sono Matteo Ciao E io Ivan Di Due Punti Sulla Maffa, seguiteli mi raccomando e adesso ce ne andiamo a fare un aperitivo E poi a casa perché siamo morti Ciao Ciao Wilder Ciao Ciao Cara Sulla per un cappello ragazzi Ciao 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 Ciao